Quest'oggi in Minecraft, ma se tocchi l'acqua, finisce il video E la cosa divertente è che siamo in un'isola, giusto per semplificare il tutto Ovviamente è pieno di sette in giro, quindi teoricamente se vogliamo farci una parchetta dovrebbero essere abbastanza tranquilli Però, secondo me, sarà divertente Che ne dici, Feria? Cosa ne pensi? Come andrà a finire? Mi piacciono questi video Beh, a te non piace andare in acqua, quindi devi essere felice che per una volta è positivo non andare in acqua Quello sì, per ogni volta che hai un divieto, Steph ti viene da fare quella cosa, anche se tu in realtà non la vuoi fare Allora, ti spiego il vero problema Dimmi, stavo iniziando a prendere la legna, però dimmi No, no, taglia la legna Allora, vado, vado, vado Possiamo parlare mentre facciamo qualcosa, siamo multitasking, Feria, eh Non si sta mai Possiamo fare tante cose in contemporanea Io ti domando, ok, come ci procuriamo del cibo in delle isolette letteralmente minuscole? Eh, beh, allora mi sono girata un pochizino in tondo, visto che comunque sono tante Magari in qualcuna c'è qualche animale? E se non ci fosse? Altrimenti ci tocca coltivare L'unico modo sarebbe teoricamente con appunto il pesce, ma noi non possiamo toccare l'acqua Capisci? Perché è difficile Eh, dovresti farti una canna da pesca, ma non abbiamo comunque i materiali per crearla Esatto Il problema è quello, eh Esattamente Per ogni cosa c'è un problema, quando non puoi fare qualcosa è sempre così Esatto, soprattutto partendo da un'isola Però secondo me è così che è difficile la sfida, di conseguenza ho fatto il proposito Tra l'altro io ho già un po' di fame, non so bene come mai, ma mi ha venuto subito fame oggi Non lo so Ho fatto una craft in tebo anche io, accidenti, abbiamo sprecato un po' di legna Vabbè, non mi sembra che ci siano grossi problemi di legna Allora, Steffo Guarda, qui davanti ci sono subito due pesci Eh Se riesci a picchiarli senza entrare in acqua Ma come dovrei riuscire? Io non rischio Eh Ci provi tu? No E allora? Perché ogni volta che ci provo io finisce sempre male Sto guardando un pochettino intorno Di fronte abbiamo un'altra isoletta con delle piante Ok Un'altra in un'isoletta con un po' di terra e tanta sabbia Ma io di animali sinceramente non ne vedo l'ombra Ok Anche in quell'altra mi sembra proprio di no Cioè si vedrebbe del movimento Non siamo così tanto lontani Allora, tra l'altro io ho paura anche di minare sotto di noi Perché magari poi ci trovi l'acqua Quello è vero Quindi ho un po' di paura Però secondo me comunque è utile Che cosa? Minare Ebbè è ovvio, dobbiamo per forza, ci serve la cobblestone Quindi io ho già iniziato Però invece che minare esattamente sotto di me Sto facendo la solita tattica degli scalini Certo In modo tale da non rischiare Comunque prendo un pochino di pietra Allora io ho già creato due barchette Ho trovato anche a fortuna Ho fatto anche la mia, accidenti Non me l'avevi detto Ah vai, ne ho fatto una in più Cioè? Non era per te Perché una in più, scusami? Non si sa mai Ok, si rompe Vabbè io ho fatto la mia Allora Muori Boh Cosa servi allora? Io non lo so Servo Per Ad avere il monopolio del carbone Quindi se mi tratti male Allora io sai che faccio? Sì Rompo tutto all'erbetta In cerca di semini Inizio a piantarla Ok, quella è una buona idea Prima o poi crescono Che finirà in questo modo tanto Il problema è non poter ottenere Neanche dell'abomial Almeno che non riusciamo a fare un composer Ma bene, vuoi di cosa, Steph? Eh sì, fare Pesciolini, carburante Dai, in tutta l'isola un semino Siamo seri Cerca di raccogliere anche gli alberelli Dei foglioli degli alberi Perché così possiamo trovare comunque Anche delle mele Piantando altri alberi Sì Ho raccolto gli alberelli E li ho anche ripiantati Così comunque legno ne abbiamo sempre Mi fai un favore? Dimmi che vuoi? A parte che è tornato indietro Il mondo non ho capito come Mi controlli su Google Come si crafta il composer Perché non me lo ricordo Allora, neanche io sicuramente E se è fattibile Noi possiamo arrivare a dell'abomial E a quel punto possiamo coltivare realmente Quello sì Quello sì Eh, vediamo un pochettino Recythe Faccio Che poi è composter Sì, beh, dai Non composer Hai capito Allora, ah vabbè Non è neanche troppo difficile Ma possiamo farlo? Però aspetta Java Edition e PlayStation 4 no Quindi dobbiamo fare la Java Edition Sono Ci servono 4 fence Normali Non cancellio altro E 3 blocchi I planks classici Ci pensi tu? Sì, sì, sì Allora Faccio subito Anche perché ho pensato Vado a continuare A prendere un po' di cobblestone Così ci possiamo fare i vari utensili Perché ho fatto la fornace E mi è rimasta pochissima pietra Quindi Allora Devo fare altra legna Perché ovviamente Non mi bastava per fare tutto Ok E vado qui Allora io continuo a scavare verso il basso Per adesso comunque per fortuna Non c'è traccia di acqua Che è una cosa super positiva Direi di piazzare anche una bella torcia qua Così vediamo un pochino meglio Accidenti va Tutto tranne cobblestone Oh Maledetti infami Mi serve la cobblestone Allora Eccomi qui È inutile Dobbiamo fare di nuovo così In effetti oltre alle barche Potremmo anche costruire in acqua Per arrivare alle altre isole Sai se non ti fidi delle barche Magari hai paura di navigare Potremmo fare in questo modo No dai secondo me Con la barcha è abbastanza tranquillo Comunque dai Anche secondo me Secondo me non dobbiamo essere Altrimenti potremmo fare un tunnel sotto E arrivare fino all'altro posto Così tanto paranoici insomma Su Bene Ho trovato anche del ferro Fatto Steph Fatto Ne basta uno Sì 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 Praticamente ci piazzi Tutti gli alberelli Che riesci a trovare in più Quindi buca tutti Distruggi tutti gli alberi Prendi tutti i semini che puoi E mettiamo tutto lì A parte tipo due semini totali Che ci lasciamo da coltivare E se abbiamo un po' di fortuna Sarà sufficiente a fare Della bombiglia Alla quel punto Riusciamo a far crescere il primo grano Dopo che cresce il primo Siamo a posto Allora Allora rompo tutti gli alberi Che avevo piantato Perché qui la situazione Vabbè un po' ce ne servono Però di alberi che crescono Sì sì Però la situazione è un po' critica Steph Semini ne ho trovati due In tutta l'isola Quindi Oh mio Dio Eh Dovremmo magari spostarci In quell'isola che abbiamo lì di fronte Che è tutta arbetta Eh Dove rovinare questo Allora andiamoci Ci voglio andare? Eh che te devo dire Ah io sto rompendo comunque le foglie Che magari Allora riprendiamo tutti gli alberelli Riprendiamo tutto quello che c'è in questa isola Perché non c'è Una mela Oh mio Dio Mangia 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 Sì sono di nuovo full Che bella notizia Ti vuoi portare via tutto? Sì Quindi finiamo anche tutti gli alberi a sto punto Ok Sei sicuro di volertene andare? Non è meglio fare avanti e indietro? No Io ho già messo un albero nel composter Eh vai lo puoi bucare Eh però non è stato consumato? Forse ce lo ridà Non lo so Comunque tanto un solo alberello Vabbè però un po' non spreco Perché già le cose ce li abbiamo contate Ho capito Vabbè come vuoi come vuoi dai Adesso ci muoviamo Sai fare i viaggi Fere se puoi compare una zombie di quelli che sta in acqua E ti attacca e ti rompe la barchetta Tu fai giù in acqua e finisce il video Eh lo so Se invece noi riusciamo in qualche modo a sopravvivere Un altro paio di maniche Allora anche perché comunque alberelli io ne ho già quattro Ottimo Giusto per farti capire A me non ne sta dando eh però Tutti io li sto prendendo Sto sperando anche in un'altra mela Perché ho di nuovo fame Altro alberello ne ho tre Perfetto Opla Prendiamo anche questa Mela Mela Hai fame? Tieni Tu non hai fame No Com'è possibile? Non lo so Ah qui c'è altra erbetta Semini semini Prendi 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 Preso 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 ne ho tre Ok Gasati per avere tre semini E comunque un buon risultato Nessuno ci deve prendere in giro Possiamo sopravvivere Allora io riprendo tutto a sto punto Ok Ok No il composter rimane così eh Non si dà nulla Gli alberelli li sto trovando ovunque Mamma mia Ok dobbiamo prima di tutto togliere la legna ovunque Così le foglie iniziano già a scomparire anche di per sé Eh Steph io diri che puntiamo quell'isola lì Mi sembra quella con più erbette e pianura quindi Ti rendi conto che probabilmente sta diventando anche notte Eh lo so quindi muoviti Steph Sì cercherai di arrivare lì Eh riprenditi la tua crafting e la fornaccia andiamo Inizia a farlo a fare sto tagliando tutti gli alberi oh Ok Tutti gli alberi che c'erano li sto prendendo Vedo anche di un sacco di lefini che carini Ok Veloce vadoce 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 Accidentio Ok Allora Come on Andiamo Un po' di fortuna Sto cercando di ottenere qualche altro alberello Lo so che è un po' rischioso Però ci serve bomial Eh lo so Perché comunque ne chiede tante il composter Non è che metti due alberelli e c'è la bomial Lo so Lo so ovviamente Un altro Benissimo Ok anche uno stick Vabbè ce la facciamo andare bene Ho visto la testa di ferro e pensavo fosse una mela Stai iniziando ad avere le allucinazioni Le allucinazioni da mela Come le persone quando rimangono troppo tipo nell'acqua dispersa Iniziano a prendersi insolazioni Ho 12 alberelli io Ottimo Io ne ho 5 più 3 simini Ok Allora Ci sono quasi Ok praticamente è finito l'albero Così E io direi appena finisco quest'albero partiamo Hai già ripreso tutto quindi fornace Tutto Tutto Perfetto Oltre due alberelli di berce Quindi sette alberelli Ok qua ne sto raccogliendo altri due 14 alberelli Ok Stavo rischiando di cadere in acqua Oh mio dio Sono tanti dai Sì dai almeno uno di bombi Ce lo dovrebbe dare Io direi di partire così fare Ok andiamo Quindi dovevo andare Punta questa 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 solo pianura e semini Vedi Così ci prendiamo tantissimi semini Ok È quella che ha più pianura Tra quelle che vedo qui in zona Hai rischiato di cadere in acqua o sbaglio? No Per niente Sicura? Allora l'ho messa qua vicino Vado Corro perché vorrei che mi prenda qualcuno col tritello Occhio Sì infatti velocissima Occhio dovevo riscendere Cerca un buon punto Eh devo trovare esatto Questo mi sembra un buon punto Io ho paura Questo leggermente alla destra Sì perché sembra super piano Sì 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 Io ho paura di scendere dalla barca Allora Secondo me devi capitare Narti È la cosa migliore Riusciamo? Prova Allora se io mi metto Tipo al contrario Vai prova Scendi No ho paura scendi tu Se fai il fail lo devi fare tu No aspetta Hai ragione è una buona idea Ok Ok Io non recupero neanche l'altro Ho paura Ok Vieni qui Dai ti prego Ok L'ho ripreso senza toccare l'acqua Mamma mia Semino Ok inizia a fare Inizia a coltivare A piantare qua Io devo correre in tutta l'isola E mettere torce Vado Vai 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 Allora io devo anche creare Steph Una zappa ovviamente Ok Zappa zappa Raga quest'isola è un jackpot Però mi sa che non ha neanche un albero Cioè se noi fossimo sponati qua Non avremmo potuto fare nulla Ferre c'è dell'acqua in mezzo all'isola Te lo dico eh Come c'è dell'acqua in mezzo all'isola Sì è terribile Devi stare attenta a come ti muovi E a come corri E io ho messo tutte le torce che avevo Ma non bastavano E aspetta che ne creo un altro po' Dov'è l'acqua in mezzo all'isola Scusami Che voglio sfruttarla per piantare No ma pianta nella costa no? Non c'è molta erba È così tutta sabbia Eh vabbè la piantiamo Cioè togliere Vabbè proviamo Proviamo Hai visto che c'è anche una miniera al centro? No non l'ho vista Ottimo ottimo Allora Che quella può essere utile Forse qui magari leviamo Ok facciamo così guarda Allora spostiamo queste cose Facciamo in questo modo Leviamo qui la sabbia Così arriva l'acqua Io raga ho piantato tante di quelle torce Dovremmo essere abbastanza sicuro Lo spero perlomeno Lo spero perlomeno Ok piantati Iniziamo col composter Vai Quanti ne hai? Di che cosa? Di semini piantati Io semini non ho fatto così nulla Però adesso faccio questa zona Aspetta aspetta Ne ho piantati tre Non ne ho altri Allora arrivo Ne piantiamo anche altri E poi iniziamo a fare composter a raffica Dobbiamo piantare anche un po' di alberi Perché comunque qua non ci sono alberi Esatto Allora La cosa positiva però è che è pieno di erbetta Quindi totalmente diverso dall'isola È spaventato un zombie Faito Non ho una spada Io sì l'ho fatta Ok Sapevo che avremmo avuto di questi problemi Ok quindi non sono riuscito comunque a coprire tutta l'isola No Qui ad esempio ci sono un sacco di zone buie Eh lo so ma ne ho apprezzato tante È grande comunque come isola Lo so lo vedo Un sacco di semini Steph Ne ho già quattro Sarei io ne ho ventuno Vabbè ottimo Allora No non ci penso neanche più Pianto alberelli un po' ovunque Wow Mi esplodano le spalle Da dove sei uscito fuori Fere è pieno zeppo di mob Eh Dobbiamo stare Aspetta questo lo picchio con l'ascia Dobbiamo stare nelle zone illuminate Steph Io ho fame Fere Anche io ne so Mi sto sparando uno scheletro da dietro Allora Steph Proviamo a mettere le cose nel composter Tutti gli ingredienti Dobbiamo chiedere quello scheletro Sì Allora Corro verso un lato Come hai fatto a prendermi Che ero attaccata a te Accidenti Ok Fere Mi ha la tossa 3 di pomial Ottimo Dove hai piantato? Qui Ok sento un ragno Dov'è? Eh qui sotto Guarda non me ne ero accorta Ci abbiamo la minera sotto Accidenti Non me ne ero accorta all'inizio Aspetta Uso l'andesite Sì Tappa 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 Eh Tieni il composter qua Ok Metto gli alberi Tutti Vai Allora uno due Questi altri A sto punto anche tutti i semini Visto che tu sei pieno Vai Ho messo tutto quello che ho Dovrebbe essere pronto Eh quasi Sì No bisogna fare No come è possibile che ancora non è pronto Non lo so Ok Ora dovrebbe Prendi Eh io Dei fette Vabbè fatto Ok fatto Ok abbiamo quattro di bomial totale C'è praticamente l'osso Vabbè Vabbè Ok Io non mi ricordo mai se è già cresciuto Anche io Così è cresciuto Ok quindi l'altro non lo è Lo riprendo E ripianta Eh sì Espandiamo pure vai Esatto Steffo Steffo occhio Ringrazio che non ho un tridente Porca miseria Lo vedi Fight Raga è difficilissima sta roba Eh lo so Dobbiamo aspettare che torni L'ho steso Ottimo Ottimo Ok Continua ad allargarlo Continua ad allargare Ho moltissimi mini Puoi fare quest'altra striscia Tanto è vicino all'acqua comunque Vai Posso Sì sì Vai Ok Dovremmo prendere della terra E metterla Tipo qua Levare tutta la sabbia Capito E continuare Adesso lo faccio Adesso lo faccio Mi faccio una palla Che se non ci metto una vita Il problema è che non abbiamo cibo Lo so Allora Facciamo così Creiamo delle spade decenti va Vai 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 Bene mi arrivano zombie addosso Accidenti Devi guardarmi un pochino alle spalle Lo so Sto andando a prendere la terra Accidenti Lo so però A me mancano già tre cuori e mezzo E non posso recuperare Allora facciamo così Dove me li ha messi i bastoncini qua Ok È pieno di robe Stef Allora Altro zombie Mi si sta anche rompendo l'ascia Ci stai pensando tu a fare delle Delle armi Mi sei rotta Sì Tieni A piccone lo devo colpire Arriva 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 Vai Allora tieni Ci sono anche i mostri che arrivano dall'acqua Ma è orribile sta roba Stef È totalmente orribile Ed è ancora tipo a metà notte Però mi sa fare di tuera del ferro Fere Dai meno male O che non togli hai troppa acqua Non so che dire guarda Allora vai 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 Ok sono arrivata fino a lì Puoi piantare dove ti pare Ok almeno la piantazione è enorme Il problema sono i mostri che arrivano anche dall'acqua Stef Non abbiamo solo quelli terrestri Ma se noi riuscissimo a killare i ragni Capisci? Eh lo so Vuoi provare ad andare nella miniera? No 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 Ce ne sono anche in giro nell'isola Aspetta che questo non ci può esplodere Questa è tutta terra che possiamo sfruttare Aspetta che la prendo Questo non ci deve esplodere Ok ottimo Bene Bene Abbiamo toccato l'acqua Fere No Qui sopra è troppo Stef Non ce la facciamo però Quello esplode Io muoio io muoio Io muoio io sono morto Scappo scappo no sono morta pure io Credo Perché adesso mi seguono tutti ed è pieno di schele Tristep non fa Non fa Avevamo bisogno di un letto E abbiamo perso Perché noi non abbiamo lasciato neanche un albero Di conseguenza l'isola in cui eravamo Non ha barche Non ha alberi Non ha nulla E quindi Game over Ma sai qual è il problema? Secondo me Dovevamo chiuderci per la notte Anziché essere così ambiziosi Troppo coraggiosi Pensare al composter Pensare alle piantagioni Dovevamo chiuderci per la notte Troppo troppo coraggiosi Raga Speriamo che il video vi sia piaciuto Qua sotto come altri video Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao